Passo la parola per i saluti al dottore Escheri, presidente del Consiglio dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili. Mi unisco anch'io all'ingraziamento a Confindustria Sicilia, agli organizzatori di questo evento che tratta un tema a noi abbastanza noto, noi commercialisti, ma in una chiave nuova molto interessante perché leggere nella quarta di copertina, come ho letto, il tema della creazione di valore nelle aziende sottoposte alle misure di prevenzione è una chiave prettamente aziendalistica che ci interessa particolarmente perché ci richiama al finalismo delle aziende, qual è la finalità dell'azienda sottoposta alle misure di prevenzione. Anche il richiamo alla sopravvivenza darwiniana, io ascolterò con molto interesse la relazione del professore Provenzano, ci richiama a quello che i nostri, tu sei un economista, i nostri maestri come Zapp, eccetera, chiamiamolo l'azienda è un istituto atto a durare nel tempo, cioè la finalità per durare nel tempo che è insita nelle aziende, altri la chiamavano equilibrio economico come Giannessi, altri autori l'hanno chiamata creazione di valore. Il problema è che c'è una gerarchia nelle finalità aziendali, la finalità generica dell'economicità che coinvolge tutte le aziende non è però sempre declinabile nella stessa maniera e l'utilizzo di una gerarchia finalistica errata crea dei problemi, utilizzare una cooperativa che ha come prevalente finalità, la finalità mutualistica per finalità prettamente lucrative crea dei problemi, utilizzare un'azienda no profit o un'azienda pubblica con finalità prettamente lucrative crea dei problemi, allora chiediamoci qual è la finalità della misura di prevenzione nelle aziende sottoposte a misura di prevenzione. Il codice antimafia ce lo indica in qualche modo perché ci dice che la valutazione preventiva della provenienza dei beni e delle risorse che sono a monte dell'azienda è il motivo per cui si sottopone quel bene o quell'azienda alle misure di prevenzione e quindi la finalità prevalente è quella del sottrarre quell'azienda a un circuito perverso della criminalità organizzata e poi ovviamente di tenerla in un sistema di economicità. Fatto salvo, lo accennava il dottore Todaro, la possibilità della prospettiva liquidatoria che deve essere oggetto di valutazione da parte del professionista del tribunale. Allora lo strumento guida in questo, anche lì richiamato almeno genericamente dalla norma del codice antimafia, è il business plan, però non è un generico business plan, io lo ritengo un business plan particolare, assimilabile al business continuity plan, ci siamo confrontati su questo, che è quel tipo di business plan che si adotta quando ci sono eventi catastrofici, quando un'azienda subisce un evento catastrofico e tutto sommato, anche se in senso positivo, portarla fuori dal circuito mafioso è un evento catastrofico per un'azienda che ha addentato il proprio sistema competitivo nella forza della criminalità, allora utilizzare un business plan che valuti se quell'azienda può reggere all'evento catastrofico e quindi con degli strumenti particolari. Qualche anno fa abbiamo nell'ambito del master edgy fatto uno studio apposito, io mi sono occupato della parte sul business plan per l'innovazione, non c'è innovazione migliore vorrei dire dell'affrancare le aziende da un legame con la criminalità e gli strumenti sono particolari, io non entrerò negli tecnicismi, ma sono cose che magari agli studenti che sono presenti possono interessare, l'utilizzo di matematica frattalica, l'utilizzo di sistemi fazzi, cioè di tutte quelle incertezze nel business plan che derivano dal fatto di capire se tutto lo scenario attorno che si è modificato, i rapporti che si sono modificati, gli interessi dei stakeholders e degli shareholders, quindi di coloro che sono portatori di interessi che prima erano illegittimi e diventano legittimi, sono sostenibili per l'azienda oppure l'azienda è soggetta a una morte, allora bisogna accompagnarla alla morte, alla fine diciamo dell'azienda, anche se questa è una prospettiva residuale. In questo, mi trovo perfettamente d'accordo con quanto ha detto il dottore Todoro, è chiaro che il ruolo dei professionisti è determinante, io non è questa la sede di fare discorsi di, ma sono il presidente dell'ordine, lo devo accennare, l'attuale situazione dell'albo degli amministratori giudiziari ci trova in grande difficoltà, non è possibile in questo momento iscriversi, non c'è la modulistica, non ci sono gli strumenti per valutare quella professionalità che viene richiesta e che per me è insita nella figura del commercialista, che ha un percorso formativo tale, quantomeno dopo la riforma, per essere considerato un esperto aziendale. Sono problemi che riguardano noi, ma che riguardano anche i magistrati, che poi devono attingere a quell'albo per nominare, quindi mi auguro, io ho già fatto nella qualità di coordinatore regionale degli ordini, delle atti concreti, invitando il ministro che in questo momento ora non c'è più, a intervenire perché si risolva in maniera urgente questa necessità. Ascolteremo con attenzione tutti i relatori e vi ringrazio per questa iniziativa. Grazie. Grazie. Grazie.